La spaccatura nel centro-sinistra come la commenta? Io ho partecipato alle primarie, come moltissimi altri cittadini, sono 7.000 quelli che sono andati alle urne. Il risponso delle urne mi pare sia stato chiaro. Personalmente mi sono impegnato, come tutti gli altri due candidati, a rispettare l'esito delle primarie, a non candidarmi contro chi avesse vinto. L'avrei fatto, perché ho una sola faccia, non posso averne due e devo metterla di fronte alla città. Per quanto mi riguarda la parola data e come facevano i nostri nonni, equivale a una stretta di mano. E questo deve essere uno degli elementi fondamentali che caratterizza in termini di serietà chi è il rappresentante pubblico. Atteggiamenti diversi non solo sono incomprensibili, ma avviano dei principi di legalità che io credo siamo tenuti, soprattutto, lo dico per il centro-sinistra, a fermare con grande forza. Mi fermo qua, non ho che nulla a dire, perché per quanto mi riguarda si tratta di un capitolo chiuso, si volta pagina e chi ha fatto scelte diverse ne risponderà direttamente, soprattutto i 7 mila cittadini, e non solo, e non solo, e che hanno, che sono sotto la pioggia e si sono recati alle urne. Grazie.